Cari amici ci siamo a Imperia e vi stiamo organizzando un'altra grande avventura la scalata al Monte Faudo, gli appassionati di corsa in montagna potranno veramente sbizzerrirsi 6 maggio si parte da Imperia, si parte dal mare e poi pian piano, pian piano, salendo, salendo attraversando le ginestre in fiore si arriva al Monte Faudo una vista strepitosa, non mancate, iscrivetevi Grazie a tutti